Sembrano arrivare al Capolini e ai bar delle stazioni, almeno quelli presenti in alcuni centri della provincia di Lecce. Diverse situazioni rimaste ancora risolte hanno portato i gestori a gettare la spugna e sgomberare locali. Accade in grandi centri come Magli e Trigase, ma anche in paesi meno popolosi come Novoli, Salice, Salentino o Zollino. Ricordiamo che ogni gestore aveva l'obbligo di aprire il proprio esercizio almeno mezz'ora prima del primo terno della giornata e chiuderlo almeno mezz'ora dopo dell'ultimo treno. Questa presenza fisica era una presenza anche di legalità, se vogliamo, perché naturalmente fungeva anche da dissuasore rispetto a eventuali atti vandalici. Sembrerebbe che le concessioni con le quali operano i gestori erano da lungo tempo scadute, tuttavia venivano di volta in volta al 31 dicembre di ogni anno rinnovate per una sola annualità. Purtroppo soggetti che avevano per 30 anni gestito questi bar, assunto anche dei dipendenti, hanno dovuto lasciare questa concessione. Si vocifera che FSA intende ristrutturare con il PNRR le stazioni e quindi bar per poi imbandire una nuova gara. Parliamo di circa 165 milioni di euro che serviranno, possiamo parlare al futuro, a progettare e poi a realizzare delle nuove stazioni. Parliamo di un progetto definitivo che deve essere approvato a giugno 2023, un'esecuzione che dovrebbe ultimarsi al 2026 e poi lì i bandi per le concessioni. Resta da capire se quella dei bar delle stazioni è una storia arrivata al Capolinia o se la corsa riprenderà. E questo caffè dove ce lo prendiamo adesso? Beh, dobbiamo cercare un bar perché qui è chiuso. Qui è chiuso e nelle vicinanze non mi sembra di vederne di altri bar.